Dottore, stavolta è andata bene, ma la prossima potrebbe essere troppo tardi, potrebbe rimanere bloccato da qualche parte o intrappolato in un ascensore o Dio sa dove, potrebbe morire. La prego, ha bisogno di un rene nuovo. Signora Griffin, Peter è inserito in una lista, ma ci sono altri prima di lui. Non ci sono possibilità di metterlo in cima alla lista? Sinceramente non molte, potrebbero passare mesi prima di ricevere un rene, a meno che non conosciate qualcuno con un rene compatibile e che sia disposto a donarlo. Lo farò io, gli donerò uno dei miei reni. Beh, noi controlliamo sempre la compatibilità delle moglie, purtroppo lei non lo è, però abbiamo scoperto che è compatibile con una bambina che sta morendo nella stanza accanto. Che ne dice se ci concentriamo sulla mia famiglia, dottore? L'unica opzione sono i vostri figli. No, non voglio che i bambini affrontino questo. Io non so che cos'altro dirvi, affidatevi alla sorte e sperate che presto arrivi un nuovo rene. E che ne dice di me? È una cosa possibile, dottore? Beh, suppongo di sì. Ne accadono di cose strane in medicina. Io ho cercato di clonare un pollo. È uscito fuori un pollo molto aggressivo delle dimensioni di un uomo che alla fine è scappato dal laboratorio. Di questo prima o poi ne parleremo, ma Brian, tu sei sicuro di quello che dici? Non costa niente a vedere se sono compatibile. Bene, stando a questi risultati, Brian è compatibile. Sì, sì, bravi, il gelato è un'ottima idea. C'è solo una cosa. Signora Griffin, potrei parlare con voi e Brian in privato? Ma sì, certo. Ragazzi, voi aspettatemi in macchina. D'accordo, mamma. Cerchiamo una grossa e stacciata infermiera di colore, ce n'è sempre una. Puoi piangerci sopra o decidere di vivere. A te la scelta. Trovata! Dottore, cosa vuole dirci? Beh, Brian è un cane e quindi i suoi reni sono piccoli e non hanno la capacità di un rene umano. E affinché l'intervento funzioni, dovremmo trapiantarne due. Ma io ne ho soltanto due. Esatto, l'intervento ti ucciderebbe. Portano via quella macchina! No! Non può essere! Ma dove... dove mi trovo? Al parco giochi, Brian. Ti ho appena rapito. Tu e io trascorreremo il resto della nostra vita qui, sotto lo scivolo. Stewie, ma che dici? Sei matto? No, non sono per niente matto! So cosa vuoi fare e non te lo permetterò. Tu non ti ucciderai per quell'essere grasso e bastardo! Senti, è stata solo una mia scelta, chiaro? Adesso slegami! No, non ti slegherò! Come osi progettare di abbandonarmi? Andiamo, Stewie. Tu puoi vivere senza un cane, ma non puoi vivere senza un padre. E poi dimmi, come credi che riusciremo a sopravvivere qui nel parco giochi? Staremo benissimo! Qui avremo tutto quello che ci occorre. Il percorso a ostacoli e l'alimentari, le molle sono il centro commerciale, l'altalena e l'ufficio postale. Il box con la sabbia sarà la casa estiva. Ti rendi conto, Brian? Abbiamo anche una casa delle vacanze! Sì, insomma, qualche anno la dovremo affittare per riuscire a pagarla. No, aspetta! Non dovremo perché sono un famoso pilota di automobili da corsa! Stewie, non sei affatto un famoso pilota! E se non mi liberi immediatamente, tu perderai tuo padre! Ma, Brian, io non voglio perdere nessuno! Io, io non... No, io non voglio perdere non voglio perdere nessuno! Oh, mio Dio, Stewie, ora basta! Su, smettila, ti prendo! Ma, Brian, io ti amo! E soffiati quel naso, che cavolo! Ti posso abbracciare, Brian? No, 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 Nora, no, no, no! Non voglio abbracciarti! Io ti voglio... No, fermo! Non ci sono neanche i fazzoletti! Vai a rotolarti nella sabbia! Nella casa delle vacanze! Sì, vai nella la casa delle vacanze! Rotolati! Ora ci siamo! Sai, amico, mi mancherà tantissimo avere un cane! Brian, che ti dici di fare il mio cane per l'ultima volta, eh? Certo, tutto quello che vuoi! Ehi, cos'è quello? Cos'è quello? Cos'è? È uno strumento chirurgico! E di chi è? Di chi è, bello? Credo che appartenga all'ospedale! A che serve? Eh? Su, a che serve? A quello serve ad aprirmi, togliermi gli organi e uccidermi! Forza, va a prenderlo! Non vuoi prenderlo? No, quello serve al chirurgo! Senti, possiamo finirla adesso! Dottor Hartman, ma perché non è vestito per la sala operatoria? Certo che lo sono! Io, scusi, ma non riesco a capire! Signora Griffin, sono riuscito a trovare un altro donatore! Dice davvero? E chi è? Io! Cosa? Vede, sono risultato compatibile! E quindi voglio donargli uno dei miei reni! Oh, io non ho parole, dottor Hartman! Lei farebbe questo per noi! Siete gli unici pazienti che mi sono rimasti! Non posso certo perdere due di voi! Che intende per due di noi? Peter non sarebbe mai sopravvissuto all'intervento! Insomma, trapiantare i reni di cane! Io, tra l'altro, non so neanche se i cani hanno i reni! I cani hanno i reni? Sì! Ah, lui! Lui sì che è bravo! Oh, lui! Lui sì che è bravo!